www.trentino.tv educatore professionale presso il forum Trentino per la pace e i diritti umani ben trovato e grazie davvero per aver accolto il nostro invito l'occasione di avere John e Riccardo è la visita, il viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica Democratica della Congo sta proprio per terminare oggi 3 di febbraio partito il 31 di gennaio per poi trasferirsi in Sudan visitare il Sud Sudan fino al 5 di febbraio quindi i riflettori ecco qui vediamo Papa Francesco che sta atterrando a Kinshasa suppongo vero John quindi una visita apostolica che sta accendendo i riflettori su questi paesi dimenticati sull'Africa, su popolazioni provate duramente da conflitti decennali e da povertà ebbene un viaggio apostolico con dei messaggi con dei discorsi di Papa Francesco davvero vibranti con delle denunce andremo anche ad ascoltare un passaggio prima della partenza appunto e soprattutto alla vigilia appunto della partenza della Papa 107 associazioni della società civile italiana hanno scritto appunto hanno chiesto di riportare l'attenzione in particolare sul conflitto nell'est del Congo e diciamo che hanno scritto appunto una lettera tra queste e anche il forum trentino per la pace e i diritti umani tra le tante appunto quindi Riccardo è anche portavoce delle 107 associazioni e ovviamente anche John Paliz come attivista anche congolese ecco chiedo a Riccardo avete scritto qual è la necessità perché scrivere appunto questa lettera allora la necessità è molto evidente è molto evidente dal fatto che nessuno conosce la situazione del Congo è la situazione più misconosciuta in qualche modo e meno trattata dai media e questo è un po' l'appello che noi abbiamo fatto al Papa di aiutare a rendere visibile una situazione internazionale protratta negli anni che purtroppo non trova nessuno spazio noi siamo un po' mossi da tutta una serie di questioni ovviamente in questi anni come forum trentino per la pace e i diritti umani ma un po' come tutto l'associazionismo italiano e quello che stiamo notando e uso apposta queste parole in queste giornate è la totale indifferenza che c'è da parte della comunità internazionale uso queste parole perché siamo vicini è una giornata della memoria con Lidiana Segre che ha ricordato come l'indifferenza è stato il peggior crimine forse diffuso durante il periodo della Shoah e in questo momento noi ci troviamo davanti a un'indifferenza dei media che in qualche modo non permettono ai cittadini e alle persone di conoscere e la nostra speranza è che questo viaggio del Papa riponga un po' i riflettori su quello che è successo in questi trent'anni questa è la nostra speranza e per questo siamo molto lieti di essere qua oggi perché siete il primo media per certi versi che fa questo passaggio di informazione quindi in questa conferenza stampa più che una lettera avete anche dettato in qualche modo indicato alcune tappe precise per la pace andremo poi a capire in chiusura della nostra conversazione però torno, vado da John in palizza Repubblica Democratica del Congo ormai sono 27 anni quindi tre decenni possiamo dire che la Repubblica Democratica del Congo sta vivendo una situazione davvero drammatica sì, basti pensare che Papa Francesco nel primo viaggio che è stato annullato per motivi di salute aveva previsto di andare fino a Goma proprio all'este cioè nell'area dove vengono estratti quei minerali che servono per la nostra tecnologia coltan, soprattutto cassiterite, oro e quant'altro il Papa in questo viaggio iniziato proprio il 31 gennaio ha praticamente cancellato quel viaggio all'este ma proprio perché in questo momento è l'inferno sulla terra è proprio l'inferno cioè proprio da spingere un Papa a non andare più da quelle parti per portare sollievo alle vittime di questo conflitto sono praticamente 30 anni che i congolesi, soprattutto all'este subiscono violenze, stupri sulle donne come arma di guerra i bambini sono trasformati in bambini soldati ci sono bambini minatori ma oggi stiamo parlando di circa 10 milioni di vittime e il Papa lo dice il Papa lo dice qui c'è stato o c'è ancora in atto un genocidio dimenticato ed è arrivata l'ora di dire basta di parlarne e trovare delle soluzioni Repubblica Democratica del Congo lo hai citato e ce l'hai raccontato spesso in altre occasioni a mattino insieme John è un paese ricco con un'abbondanza di risorse minerarie straordinario diciamo un sottosuolo con diamanti con oro, cobalto ricordiamo il cobalto per le batterie delle macchine elettrici per le batterie delle nostre autovetture elettriche rame ma soprattutto coltan che è necessario per qualsiasi strumento tecnologico quindi anche i nostri telefonini sono diamanti insanguinati il Papa il Papa stesso è tornato su questa su questa metafora del diamante in tanti non hanno capito perché pensavano parlasse proprio dei diamanti insanguinati di cui si parlava all'epoca quando hanno fatto pure il film certo cioè non parlava di quello perché lui ha detto i congolesi i congolesi sono il vero diamante di questo paese cioè è la parte più preziosa cioè non sono le materie prime quindi sì andate venite a cercare le materie prime i minerali e vi dimenticate che c'è un popolo che è il vero diamante l'ha precisato più volte dopo ha usato la stessa metafora rispetto al presidente ma anche al governo perché non dimentichiamoci questa situazione è possibile anche perché noi non abbiamo un governo degno di questo nome cioè noi abbiamo della gente che praticamente accetta facilmente la corruzione noi abbiamo un governo un presidente che non è arrivato legittimamente al potere che sta andando verso le elezioni e il papa l'ha precisato ha detto bisogna organizzare delle elezioni democratiche bisogna organizzare delle elezioni libere credibili e ha detto bisogna non cambiare le leggi non bisogna massacrare le leggi e cita Sant'Agostino che era africano che è nato in Africa proprio l'ha ricordato ha detto un posto dove non vengono rispettate le leggi dove non c'è giustizia che stato è se non una banda di ladri è quello che purtroppo nel nostro paese sta succedendo da tanto tempo dove ci sono sì le multinazionali i paesi come dire i paesi che hanno bisogno di questi minerali quindi industrializzati che vengono però li trovano veramente della gente disposta in qualche modo in cambio di soldi a permettere questa situazione quindi una guerra economica di corruzione qui vediamo e ringrazio i colleghi in regia la cartina geografica sappiamo ci spiegavi come la zona dove il conflitto diciamo è nell'est e siamo al confine con con il Ruanda il Burundi e l'Uganda e se mi se mi permette se mi permette veramente perché visto che vediamo la cartina il problema lì praticamente oggi sono i movimenti che sono che provengono dai paesi vicini soprattutto il Ruanda c'è oggi in questo momento chi sta combattendo è l'M23 il movimento M23 che è stato dichiarato da parte delle Nazioni Unite terroristico e che viene pagato finanziato proprio dal Ruanda questo è stato dichiarato dalle Nazioni Unite questo è molto importante importante sottolinearlo le metafore Papa Francesco durante questo viaggio in Africa nella Repubblica Democratica del Congo ha utilizzato delle metafore davvero parole anche vibranti diamanti appunto insaguinati il polmone d'Africa che però non riesce a respirare ha spiegato come ci spiegava anche Giondi come i veri diamanti preziosi sono i congolesi soprattutto anche i giovani ha chiesto anche agli politici appunto di essere trasparenti come un diamante prego la regia di mandare in onda un frammento che siamo riusciti ad estrapolare sul web dove Papa Francesco tuona giù le mani dall'Africa vediamo questo passaggio è tragico che questi luoghi in più negli altri continenti africani soffrano ancora varie forme di sfruttamento c'è quel quel moto che esce dall'inconscio di tante di tante culture di tanta gente Africa va sfruttata e questo è terribile dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico altrettanto schiavizzante così questo paese ampiamente depredato non riesce a beneficiare la sufficienza delle sue immense risorse si è giunti al paradosso che i frutti della sua terra lo rendano straniero ai suoi abitanti il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati meritano spazio e attenzione giù le mani della Repubblica Democratica del Congo giù le mani dell'Africa basta soffocare l'Africa l'Africa non è una miniera da sfruttare o un solo da saccheggiare l'Africa sia protagonista del suo destino non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da decenni mietendo milioni di morti all'insaputa di tanti si conosca quanto qui accade i processi di pace in corso che in coraggio con tutte le forze siano sostenuti coi fatti e gli impegni siano mantenuti e tra questo è il appello di Papa Francesco a Kinshasa quindi giù le mani dall'Africa e le 107 associazioni della società civile quindi che cosa chiedono qual è l'appello chiedono attenzione chiedono di occuparsi di questo conflitto di questo conflitto che come diceva John prima è partito è partito tanti anni fa è partito per ragioni probabilmente etniche quasi di connessione con quella che era la guerra del Rwanda quasi una forma di vendetta di quello che era successo in Rwanda fra etnie ma si è trasformato presto in un contesto socio-economico in cui il mondo occidentale con i propri interessi di sfruttamento storico secolare del Congo e sono intervenuti in questo momento quello che viene chiesto è veramente l'attenzione a ridare potere all'Africa una cosa che piace molto e qua lo dico come associazionismi pacifisti in questo momento quello che arriva dai territori non è la richiesta di intervenire nel conflitto viene richiesto di smilitarizzare viene chiesto di togliere il conflitto che è un approccio diverso da quello che spesso fa parte più del mondo occidentale entriamo nel conflitto ma la richiesta è toglieteci tutte le armi permetteteci di modiare all'interno del nostro contesto e diventare titolari delle nostre questioni e quindi si chiede anche l'istituzione ricordiamo di un tribunale penale internazionale oltre ovviamente alla creazione di una commissione verità e riconciliazione sappiamo appunto come un paese ricco un paese anche ricco nel sottosuolo e anche per quanto riguarda la biodiversità e quindi è straziante vedere vedevamo delle immagini appunto dei bambini pensiamo al fenomeno purtroppo dei bambini soldati dei tanti stupri degli sfollati e siamo davvero in chiusura però torneremo torneremo perché giustamente questo viaggio del Papa poi terminerà il vostro appello l'appello anche della comunità diciamo internazionale delle associazioni è proprio quello che poi non si esaurisca che non venga dimenticato appunto esatto esatto noi speriamo che questi tre giorni del Papa una volta che è tornato a Roma non che non si spengano i riflettori non abbiamo la pretesa e neanche cioè di pensare che poi automaticamente ma progressivamente speriamo che si cominci finalmente a occuparsi di questa situazione e quindi grazie di questo il silenzio e anche l'embargo di notizie diciamo anche i media parlano poco comunque se non quando appunto c'è un viaggio apostolico come in questo caso parlano poco anche in questi giorni che c'è un viaggio apostolico se oggi aprite i giornali maggiori online trovate prima notizie decisamente meno centrali e basti pensare quanto è passato nel dimenticatoio velocemente anche il premio Nobel per la pace dato a Denis Mouquet pochi anni fa che ha evidenziato la situazione di come lì viene utilizzato lo stupro come strumento di guerra però anche questo malgrado un premio Nobel della pace quindi un tema così un riconoscimento così importante è passato tutto nel dimenticatoio quindi un conflitto diciamo che questo silenzio è anche potremmo dire la conseguenza anche dell'ipocrisia potremmo dire anche della responsabilità della comunità internazionale nell'accapparamento inicolo delle risorse minerarie appunto nella zona est della Repubblica del Congo il Congo tu hai scritto un commento hai detto è ricco da morire ma i congolesi stanno morendo per la loro ricchezza è il paradigma è il paradiso terrestre anche un paradigma ma quello è il paradiso terrestre dove però la gente vive l'inferno questo è veramente paradossale ma se posso chiudere veramente io vorrei lanciare proprio un appello da Trentino sono a Trento da sei anni 30 anni in Italia da Trentino veramente questo è un appello al Trentino di cui ho sentito parlare quando vivevo da altre parti in Italia oggi vivo qua sono cittadino trentino sono cittadino congolese chiedo veramente il mondo dell'associazionismo ma anche la politica tutti noi guardiamo un po' da questa parte verso l'Africa ma guardiamo verso questo cuore dell'Africa che non riesce più a pulsare e che se non torna a pulsare se quel motore si fermasse completamente è tutta l'Africa che potrebbe essere in pericolo ma anche noi noi potremmo essere in pericolo perché lì c'è la seconda foresta pluviale oltre ai minerali grazie John Palizza sappiamo che poi tra l'altro al centro anche di questo viaggio di Papa Francesco c'è proprio il tema anche della pace anche un viaggio ecumenico perché la Repubblica Democratica del Congo il 90% sono comunque di religione cattolica io ringrazio i miei ospiti Riccardo Santoni del Forum Trentino per la pace e i diritti umani per essere stato con noi John Palizza attivista per i diritti umani congolese ma avremo modo di tornare su questo tema perché meriterebbe davvero un approfondimento Papa Francesco poi si sposterà proprio fino al 5 di febbraio sul Sudan un altro paese pensate giovanissimo nato nel 2011 e nonostante questo ancora c'è una guerra interna una guerra intestina si chiude questa puntata grazie per l'attenzione ringrazio i colleghi in regia Luca Galli e Nicola De Franceschi per essere stati con noi nel dietro le quinte vi auguro di trascorrere un buon fine settimana arrivederci